fratelli bianconeri non buongiorno a tutti voi anche se purtroppo oggi non possiamo parlare di un buongiorno oggi dobbiamo devo a malincuore commentare una morte purtroppo una morte che è quella di davide astori capitano della fiorentina una brava persona un bravo ragazzo che ha dedicato la sua vita al pallone un ragazzo giovane 31 anni sposato con una figlia di due anni che era in albergo in ritiro con la sua squadra la fiorentina di cui come dico è capitano era capitano e che ha avuto da quello che sembra almeno un arresto cardio circolatorio che non gli ha dato scampo quindi ci lascia uno dei nostri figli come li chiamo io perché sono tutti nostri figli dove non c'è colore dove non c'è bandiera dove non c'è rivalità ma dove siamo tutti un gruppo di amici chi gioca chi gestisce chi critica e chi si complimenta ma siamo tutti un gruppo di persone che si azzuffano durante la settimana c'è chi fa valere i propri colori chi fa valere le proprie ragioni oggi invece è una domenica funesta dove i colori si mischiano in un colore unico che è quello della fiorentina ma soprattutto alla famiglia di davide alla quale io sono particolarmente vicino e che credo sia giusto che vada ricordato nel miglior modo possibile io e di questo chiedo scusa sono contrario poi con quello che ne consegue questo io lo dico apertamente perché è un mio pensiero è un pensiero che può essere condivisibile o meno ma è un pensiero che io ho sempre avuto e cioè il fatto che io non trovo giusto fermare il campionato io trovo giusto che l'unica squadra che si dovesse fermare fosse alla fiorentina ma non il campionato però ovviamente so che questa mia idea troverà delle cose contrarie a quello che dico perché per molti per tutti forse è giusto fermare tutta la giornata calcistica va bene prendo atto di questo io personalmente la mia idea non sono d'accordo ma è inutile parlarne detto questo io auguro a davide un riposo tranquillo riposo sereno la tua vita davide è stata corta però è stata comunque densa di soddisfazione credo è stato un peccato che te ne sei andato così giovane perché avevi una famiglia con cui crescere con cui vivere e con cui invecchiare ma purtroppo il signor destino che è colui che traccia tutta la linea della nostra vita e ciò che succede in bene o in male è lui che dirige il gioco e purtroppo tutti noi non sappiamo quando nasciamo ma quello che è peggio è che nessuno sa quando dobbiamo morire oggi siamo qui noi calciofoli a commentare il lasciarci di un giocatore che sicuramente verrà enormemente ricordato a firenze a roma a cagliari a cremona il pizzighettone che sono alcune delle squadre dove davide a storia ha giocato e non dimentichiamoci che ha fatto anche parte della nazionale quindi un caro saluto a davide mi stringo molto alla moglie e alla figlia che credo si chiami vittoria se non ho capito male cercando di far trasparire quello che è il momento che sicuramente è un momento brutto è un momento drammatico ma che purtroppo tutti noi ci dobbiamo prima o dopo far scivolare sulla pelle perché come diceva una persona di mia grande conoscenza e lo ha detto fino a pochi giorni prima di morire ha detto purtroppo dobbiamo morire tutti tutti lo sappiamo nessuno lo vorrebbe ma da lì dobbiamo passare e io vi lascio con queste parole a davide astori dico ripose in pace amico mio ciao